Sempre nell'argomento filtri attivi andiamo a toccare rapidamente i filtri passabanda e notch che sono abbastanza simili. Vedremo come realizzarli in modo semplice con qualche circuito un pochino più compatto. Iniziamo subito. Possiamo realizzare filtri tipo passabanda o band stop, detti anche notch, combinando quello che abbiamo preso finora. Quindi se io volessi realizzare un filtro passabanda posso andare a combinare, se dovessi farlo con filtri passivi andrei a mettere un passa alto all'ingresso a cui poi vado a collegare un passabasso subito in catena. Collegandoli direttamente, se lascio un po' di spazio perché in mezzo ci mettiamo qualcos'altro, se li collegassi direttamente ottengo sì l'effetto però pagandolo con una notevole attenuazione del segnale, quindi esce molto molto basso. Abbiamo visto come introdurre degli operazionali per migliorare la qualità di questo tipo di sistema, quindi qui abbiamo V e qui VO. Possiamo intervenire anche qua, quindi sapendo che il primo filtro che è il nostro passa alto, quindi fa passare alto, il secondo è un passabasso invece, questo qui attenuerà il segnale, posso compensare e diciamo cercare di separare i due e andando a mettere un operazionale di mezzo, quindi se qui in mezzo vado a mettere uno stadio di amplificazione con il nostro operazionale, entra qui, poi l'uscita viene passata sul secondo stadio, qua gli vado a mettere una resistenza che va a realizzare l'amplificazione necessaria, poi questa qua ve la tarata a seconda della vostra applicazione, quindi andate un po' con simulatori o altri sistemi sperimentali, in questo modo riuscite a ottenere un filtro con una risposta migliore che non vi uccide del tutto il segnale, poi se volete addirittura potete poi continuare, visto che questo lo collegherò a qualcos'altro, se voglio comunque riparare l'effetto di quest'altro filtro vado poi a mettere anche qua un inseguitore, quindi metteremo un altro operazionale che se lo prende in carico e fornisce poi il segnale adatto ad essere elaborato fare quello che vi serve. Volendo realizzare un passabanda, quindi passabanda avrà due frequenze, quindi una F1 e una F2, la F1 è quella data dal primo stadio, quindi il passa alto, questo qui è C1 e R1, mi determineranno la F1, mentre il passabasso che ho qui nella seconda parte, determinerà la F2, quindi andrà a tagliare poi il segnale in questo modo. L'effetto complessivo è quindi far passare una banda, se invertiamo le cose riusciamo invece a fare il contrario, quindi fare quello che viene chiamato il notch, elimino, ammazzo una precisa frequenza, di solito in un segnale magari avete il ronzio della tensione di rete, potete andare a eliminarlo con un notch, se vi serve quello che sta sotto, quindi dipende dalla situazione in cui vi trovate. C'è poi da fare tutta una serie di considerazioni, amplificazioni, sfasamenti eccetera, conviene per noi che siamo principianti magari affidarci dei simulatori, vedremo in qualche prossimo video, nei prossimi giorni qualche esperimento per andare a vedere quello che accade poi in modo più fine, perché altrimenti dovremmo metterci qui e fare una marea di calcoli. Non tutti siamo specialisti nei calcoli e anche io che parecchio magari smanetto, sbaglio facilmente a fare conti matematici. Un'ultima cosa, potrebbe essere utile avere un filtro più compatto invece che fare questa cosa qua, non esiste un circuito passabanda compatto, sì si può fare, c'è un design più compatto che utilizza un solo operazionale e diciamo sovrappone l'effetto dei due filtri. La cosa è abbastanza semplice da realizzare, dunque abbiamo il nostro segnale di ingresso, qui mettiamo una R1, subito in coda gli mettiamo un condensatore C1 e andiamo sull'ingresso invertente, non invertente lo mettiamo così, quindi il nostro segnale arriverà qua VI, poi qui abbiamo invece VO il segnale di uscita, questo è il ground, la retrazione la facciamo nello stesso modo con un resistore R2 e un condensatore C2. Questo mi realizza in un botto solo, in modo più compatto, un filtro passabanda. Abbiamo un guadagno, quindi il guadagno in tensione è di tipo invertente, quindi sarà pari a meno R2 su R1, quindi abbastanza semplice, le frequenze di taglio sono due, abbiamo una FC1 data da 1 fratto 2π R1 C1 e FC2, C sta per cat, di 2π C2 R2. Occhio come le disponete perché potrete, F1 deve essere inferiore a F2 per far sì che si crei un passabanda. Quindi lascio voi sperimentare con queste cose e sicuramente è utile far qualche esperimento. Ci sono anche altre possibilità, quindi andate magari a studiarvele. Bene, per oggi è tutto, quindi avete visto, avete le basi per creare quasi ogni tipo di filtraggio, esistono anche design più complicati, più complessi, magari andate a farvi qualche giro su internet per vedere qualcuno di questi sistemi. Vi conviene, a meno che abbiate interessi particolari dovuti alla scuola, alla didattica, andare a studiarvi le formule, fare i calcoli diventa anche impegnativo, però se volete usarli semplicemente nei circuiti andate a vedere le tipologie e provate a realizzarle. Magari ne realizzeremo insieme qualcuno più avanti cercando di trovare delle applicazioni pratiche, che secondo me è meglio, quindi vederle anche funzionare. Bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!